8 luglio 2017, tornare a Mundial, 17esima edizione. L'anno scorso è stata un'attività sperimentale, quest'anno grande richieste per questo sport che è diventato veramente uno sport, il calcio balilla. Qua abbiamo Marco che ci spiega un attimo quest'anno come si svilupperà il torneo. Sì, l'anno scorso abbiamo fatto un bellissimo evento, eravamo più di 50 coppie, quest'anno cercheremo di ripeterci. Si svolgerà in due tornei separati, uno che sarà a Montepremi garantito per i più accaniti, più agguerriti, l'altro un po' più amatoriale e cercheremo di ripeterci come l'anno scorso, magari anche meglio. Ho visto che c'è una nuova formula, giusto? Sì, per la prima volta all'Aquila faremo anche il volo, specialità di gioco al volo. È una nuova disciplina, giusto? Per noi sì, esiste tanto tempo, ma per noi è nuova perché non si pratica molto, però è molto interessante. Quindi non resta che iscriversi a questa disciplina che è il calcio balilla, chiamare Marco e scegliere la squadra della tua nazionale per affrontare questo grande torneo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!